Terza ultima finale della serie per il Pescara a caccia della promozione in B. I biancazzurri, reduci dal pirotecnico successo sulla Reggiana, sono in gran forma, ma a Foggia li attende una gara ad alto coefficiente di difficoltà, considerata la precaria posizione di classifica dei Satanelli. Queste sono, come dici tu, tre finali per noi. Quella più difficile credo che sia proprio domenica a Foggia. Un incontro impegnativo perché loro sono ancora impelagati nella zona play-out. Giustamente anche loro hanno fame di punti, però penso che il nostro obiettivo sia quello di andare a Foggia a fare i tre punti, perché sennò tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi risulta non sufficiente a raggiungere l'obiettivo che ci siamo proposti all'inizio anno. Dopo l'ok arrivato in extremis dal Viminale, uno spicchio dello stadio Zaccheria sarà popolato dal pubblico pescarese. 700 i preziosi tagliandi già esauriti dai gruppi organizzati. Biglietti ovviamente nominativi e incedibili. I tifosi del Pescara dovranno partire tutti insieme per obbligo della questura e per evitare problemi la carovana di pullman e auto sarà ascoltata per l'intero tragitto. A Foggia il provvedimento del Viminale non è andato giù né alla società né al sindacato di polizia, che ha diramato una nota polemica. Alla base ci sarebbe l'inadeguatezza strutturale causa lavori dell'impianto da uno, che al momento non dispone di un settore ospiti. Dal fronte tecnico Eusebio Di Francesco ha tratto buone indicazioni dalla partitella del giovedì a Città Sant'Angelo. Il solo Marco Verratti ha lavorato a parte, mentre il recupero di Bonanni è scontato e l'ex Doriano dovrebbe riprendersi una maglia da titolare. Squalificato Marco Sanzovini in attacco toccherà lo scalpitante e in crescita Zizza riaffiancare il confermatissimo Ganci. Tre le reti messe a segno dal Foggia nell'amichevole con la nuova Daunia, squadra militante nel campionato di prima categoria pugliese.